Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni convoca un vertice di emergenza perché c'è il timore di trappole sulla manovra. Quale trappole? Quale? Vediamo quali sono queste. Giorgia Meloni riunisce la maggioranza e tira dritto. È disposto ad aprire alcune modifiche, ma non intende prestare il fianco a chi quella manovra vorrebbe snaturarla. Il messaggio è chiaro. Ecco, un governo fortemente identitario che fin dal primo giorno ha deciso di porsi al paese portandosi avanti temi e battaglie avanzate in campagna elettorale. E che certo non cambierà rotta per questioni di strategia politica legata ad equilibri interni dei partiti di maggioranza. Avete capito? Il problema non è l'opposizione perché l'opposizione non può fermare una legge di bilancio se la maggioranza ha i voti. Quindi neanche Bruxelles può fermare troppo una legge di bilancio, può chiedere guardate questo, guardate quello, ma l'Europa può rimandarla indietro una legge di bilancio dicendo Ma dovete, insomma, migliorarla, però l'Italia la può rimandare così com'è e poi l'Europa la deve accettare. Ecco, quindi i paesi rimangono comunque sovrani. Come abbiamo sempre detto, come ve l'ho detto migliaia di volte, i problemi di Giorgia Meloni non vengono dall'opposizione. Perché l'opposizione non può fare altro che scrivere su Twitter o su Facebook quello che vuole ma finisce lì. Allora il problema viene da Calenda? No, Calenda è stato ascoltato, Labelo mi ha detto va bene, lo abbiamo ascoltato, basta, adesso andiamo avanti a fare quello che dovevamo fare prima. Magari qualche idea di Calenda la posso tenere buona se mi interessa, magari mi interessa per tenermi buono Calenda perché potrebbe aiutarmi in caso di problemi che potrebbero arrivare dalla maggioranza. Cioè da chi? Salvini e Berlusconi. Quindi mi tengo buono Calenda perché qua se voglio governare cinque anni devo avere anche un piano B. La Meloni ha sempre detto che oltre Salvini e Berlusconi non aveva un piano B. Probabilmente in passato era così ma oggi se vuole andare avanti a governare deve guardarsi intorno perché i due alleati, alleati fa ridere la parola alleati, anche la parola coalizione fa abbastanza ridere. Diciamo che i partiti con cui sta governando sono totalmente e completamente inaffidabili, totalmente. Quindi a riunione Lampo, oltre alla Meloni, c'era il vice di Salvini, che è Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, Elisabetta Casellati in sostituzione del vicepremier Tajani e i capigruppo di Cramere Senato di tutti i partiti che compongono la maggioranza. Si parte dagli emendamenti. Sono oltre 3.000 quelli presentati da tutti i partiti perché gli emendamenti sono delle proposte di modifica che possono arrivare dall'opposizione ma anche dalla maggioranza. Infatti di quei 3.600 emendamenti sono stati presentati dalla maggioranza, quindi anche lo stesso partito Fratelli d'Italia propone delle modifiche alla legge di bilancio che propone principalmente Fratelli d'Italia. Quindi anche Fratelli d'Italia stesso propone delle modifiche. In totale 3.000, ma con 3.000 proposte di modifica non vai da nessuna parte. La legge finanziaria la devi finire approvare entro il 31 dicembre. L'Europa ci ha dato anche un po' di tempo in più per presentarla. In questo caso entro il 31 dicembre è il termine tassativo. Bisogna approvarla. Con 3.000 emendamenti o senza emendamenti bisogna approvarla. La riunione di ieri però è servita a limitare questi ultimi a circa 180, cioè quelli della maggioranza vengono ridotti da 600 a 180, definiti come prioritari in fase di discussione. L'analisi di queste possibili modifiche sarà in capo ad una cabina di regia composta dagli esponenti dei vari partiti. Nel dare il via a questa ulteriore mediazione me lo ne è stata chiara. Bisogna fare velocemente e senza perdere tempo. Quali sono i problemi? I problemi arrivano intanto da Forza Italia, che rivendica cose. Ecco, erano già da Forza Italia critici verso questa manovra. Sulle pensioni minime abbiamo bisogno ancora di qualche giorno per trovare delle migliorie, dice Forza Italia, ma anche per la decontribuzione delle nuove assunzioni di giovani under 35, che probabilmente sarà spostata da 6.000 a 8.000 euro. Quindi siamo assolutamente soddisfatti. E poi idem sulle modifiche al super bonus. Anche qui ci sono buone notizie. Ci sarà un emendamento che andrà nella direzione di richiesta da Forza Italia, cioè sulla proroga al 31 dicembre per la consegna dei documenti di inizio lavoro e anche una soluzione per l'accessione dei crediti incagliati. L'altro tema forte è il limite a 60 euro per i pagamenti elettronici. Anche qui melonie irremovibile, niente passi indietro, al massimo piccole modifiche che non snaturino il provvedimento. E tra queste ci sarebbe la volontà di eliminare le commissioni per i pagamenti sotto i 15 euro, come da richiesta di Maurizio Lupi. Identica posizione è stata tenuta sul tetto ai 5.000 euro per i pagamenti incontanti. Il premio era ricordato che quando era a 5.000 euro, nel 2010 è stato l'anno con l'evasione più bassa. Giorgetti ha poi chiarito che in manovra non ci saranno norme ad hoc a favore delle società sportive per la rateizzazione dei versamenti sospesi. Rimango ancora con se alzi il contante c'è meno evasione fiscale. Quale sarebbe la correlazione tra puoi pagare le cose incontanti con un soglia più alta e diminuisce l'evasione fiscale? Non c'è una correlazione. Anzi, c'è una correlazione inversa. Più alzi il contante e più l'evasione fiscale potrebbe aumentare perché dai una possibilità più ampia di evadere. Io credo che quell'anno, nel 2010, che c'era i 5.000 euro di soglia del contante, credo che l'evasione fiscale è stata più bassa per una mera e semplice coincidenza. Non ho altre spiegazioni perché non c'è una spiegazione. Alzi il contante e c'è meno evasione. Se a 5.000 c'è meno evasione allora facciamo il contante limite 100.000 o togliamolo così l'evasione fiscale sparisce in Italia. Se in Italia puoi pagare tutto in contanti sparisce l'evasione fiscale. Vi sembra normale? A me no. Pertanto è una cosa a cui non credo. Poi c'è il problema del cuneo e della povertà. La Meloni ha anche parlato con i sindacati e ha ricordato che abbiamo voluto dare un segnale ma vogliamo fare di più. Queste sono state scelte di emergenza ma siamo d'accordo con il tema del taglio del costo del lavoro sia una priorità. Ma il costo del lavoro tagliato 2-3% che sono 33 euro anche se ci metti tutto il taglio del cuneo fiscale il 5% quello che trovano in più in busta paga gli italiani è qualcosa di meramente simbolico se da 1000 euro ti trovi 1033 1040 euro non sono certo i 1500 o i 2000 di salario minimo ecco pertanto anche se ci metti tutto il taglio al cuneo fiscale 5% al posto che il 3% non vai da nessuna parte perché il 5% perché tagliando il cuneo fiscale al 5% significa che la tua tassazione sul lavoro è uguale alla media europea ma non risolvi il problema degli stipendi da fame in Italia grazie a tutti e buon proseguimento di giornata